e poi si parte dai ragazze dai che diamo un movimento al paese dai su in vista vai su in città le signore e veloce dai che siete del più lente ragazze vai un movimento oh si vienza il video Cristian guardami con il cibo che si parte Cristian guardi signore signorina 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 guardi no sinistra signorina 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 sign